Mi dice questa cosa, fino a che non liberate Fabrizio Corona, rimarrò qua, camminerò in piazza Salotto con questo indumento, perché non è la testa quello che fa un uomo, non vi comportate da bambini ragazzi, usate la testa. Quindi i miei cari fanci, Fabrizio Corona, io ti stimo, fino a che non l'ho liberata Fabrizio Corona, io camminerò così, per Pescara, Montesilvano, non me ne frega niente, liberate Fabrizio Corona, perché quello che ha fatto Fabrizio Corona lo posso fare pure io, e non ho vergogna, a me non me ne frega niente della gente che mi guarda, anzi è una protesta che faccio. E questa è una protesta pacifica, perché io sono per la pace, però mi sto avvicinando, non so come si chiama, la parca di, perché io non sono di qua, di Pescara, Montesilvano, io sono di Potenza, del Sud. Se ho fatto questa protesta è solo per un motivo, liberate Fabrizio Corona, perché appena verrà liberato Fabrizio Corona, Io andrò personalmente a ringraziare quant'altro, scusa, scusa, l'andrò a ringraziare personalmente, e adesso ragazzi, questo io non so come si chiama, perché non sono di Passo Nessuto, mi butto qua dentro, vedete come faccio senza problemi, perché io voglio la libertà di Fabrizio Corona, Fabrizio Corona è il mio grande idolo, lo rispetto, e voglio che sia liberato prima del tempo, ora voglio saldare tutti coloro che mi seguono su Facebook, e pure a voi ragazzi e ragazze, mettete su Facebook, tutto qua, il Monnaliso, mettete mi piace alla pagina, perché è una battaglia contro la liberazione di Fabrizio Corona, voglio ringraziare City Shop, Caffè Time Out, Nickster, Tekest e soprattutto il mio grande amico, che ho conosciuto da poco fa, però, rimasta bene il mio cuore, Mario Ferri il falco, so che tutti quanti lo conoscono, il falco, l'invasore, e vi prometto ragazzi, in diretta, alla finale della Champions League Juventus-Pernino, a noi primo, che farei il falco, e Mario il falco, non può bene i personali, non lo può fare lui, e quindi in memoria sua lo faccio, prometto, vi voglio bene a tutti quanti, anche se lo vi conosco, questa droga, ti voglio bene, ciao ragazzi, in questo momento, ciao ragazzi, prezzuco, e tu, fatica, che cazzo, hai fatto, io mi sono tuffato una cosa di prestare, e non mi sono fatto problemi, se non ce l'avete non lo fate grazie a tutti voglio dedicare una pausa a tutti voi grazie ragazzi e non vi perdete